Non è ancora stato neppure ufficializzato, ma il terzo polo sarà certamente della partita delle prossime elezioni comunali a Vibo Valencia. Da capire ancora chi prenderà il timone della nave. A tal proposito non mancano i colpi di scena. Nelle ultime ore alle voci di corridoio delle settimane passate si è aggiunto infatti un elemento di significativa novità. A capo della compagine verrebbe posto non più il leader di campo democratico sul territorio, Pietro Giamborino, ma il primario di neurologia dell'ospedale Iazzolino Domenico Consoli. Dunque un uomo proveniente dalla società civile, a capo di una coalizione di liste civiche, al posto di un politico navigato. A proposito di civiche, ecco l'altro significativo dato nuovo. Pare sempre più evidente che Fratelli d'Italia intenda rinunciare al proprio simbolo sulla falsa riga di quanto si sta verificando sul piano nazionale. La lista messa in campo dall'ex senatore Francesco Bevilacqua potrebbe essere denominata Prima Vibbo sulla scorta del movimento Prima l'Italia guidato da Isabella Rauti. Sarebbe stato ancora una volta l'ex parlamentare, peraltro, a smuovere le acque in quella fetta di società che non intende sposare il progetto di Elio Costa nel centrodestra. E il nome di Domenico Consoli alla fine è parso quello giusto, anche perché Pietro Giamborino sarebbe disposto, dinanzi a tale ipotesi, a fare prontamente un passo indietro ed evitare così di candidarsi contro il Partito Democratico e il centrosinistra dopo aver sostenuto le primarie.